Il risultato di tanti anni di fatica dove tentiamo di spingere sull'innovazione per portare avanti nuove idee e la crisi forse aiuta la gente a avvicinarsi alle nuove idee per capire nuovi modelli di uso delle barche. Continuare a credere nel futuro perché molti di noi vedo che hanno perso la fiducia, però con la ricerca...